Un'abitazione acquistata con i sacrifici di una vita, il mutuo in banca, l'atto dal notaio e i certificati d'agibilità pensavano ormai di aver concluso con la burocrazia e di potersi godere la gognata casa. Stamattina è invece cominciato l'incubo per gli abitanti di due palazzine di recente costruzione situate in via Carafa. Fabbricati garage e mansarde, circa 75 unità immobiliari sono state sequestrate dagli agenti del corpo forestale nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla procura guidata da Rosario Cantelmo sull'urbanistica ad Avellino. In principio fu il palazzo costruito nell'area dell'ex prefettura, poi un fabbricato a 4 o 5 piani a seconda dell'interpretazione e in rampa Santa Maria delle Grazie. Le indagini si snodano intorno ad un interrogativo di fondo, si può costruire a ridosso del rio San Francesco un corso d'acqua tombato nelle mappe ma che per la procura rappresenta ancora un vincolo idrogeologico. Saranno i tribunali a pronunciarsi e a fare scuola, ma l'inchiesta ormai investe mezza Avellino. Qualcuno vocifera che pure la questura sia stata edificata in barba alle leggi. Stamattina l'ultimo sequestro preventivo dal valore di oltre 6 milioni di euro. Gli agenti della forestale hanno anche effettuato un sopralluogo in comune alla ricerca della documentazione di quei fabbricati. L'inchiesta è arrivata fino alle porte della regione Campania. La procura ha acquisito gli atti con cui la giunta De Luca ha declassificato il corso d'acqua avellinese consentendo il via libera alle costruzioni. I sigilli questa mattina sono scattati sia per gli alloggi abitati che per quelli ancora invenduti. Per le famiglie c'è comunque la facoltà d'uso in attesa che maturino i procedimenti giudiziari. Avellino intanto trema. Trema chi acquista una casa e ritiene che sia tutto in regola dopo averla pagata profumatamente. Tremano i tecnici finiti sotto inchiesta. Tremano le imprese. La forestale e gli inquirenti hanno già sott'occhio altri casi che allungheranno l'elenco dei fabbricati sospetti.